ben tornati o benvenuti in questo nuovo video oggi mi vedete un po diverso dal solito perché ieri sono stata dal parrucchiere e ho fatto la frangia dopo tipo dieci anni ho avuto questa stramba idea speriamo che ricresca più presto perché non riesco a vedermi per niente ho fatto anche qualche colpo di sole un po così per cambiare ho già ordinato su amazon il mio solito castano chiaro in modo tale che quando mi stanco di questo colore così chiaro vado subito a coprire comunque oggi appunto dato il nuovo look mi vedo un po strana quindi volevo un po capire come stanno con questo colore con la frangia le mie solite onde con quella che vi ho mostrato in qualche video precedente quindi sono super semplici da realizzare però danno subito un effetto un po più curato voglio realizzarle utilizzando la nuova piastra che mi è stata inviata dal team di carmine professional questa qui adesso ve la mostro e loro hanno sbagliato praticamente mi hanno inviato la piastra con la presa americana vabbè capita ragazzi io ovviamente mi sono munita di adattatore per fortuna lo avevo già in casa e questa è la piastra devo dire che mi sembra fatta davvero bene nel senso un buon materiale sembra una piastra di qualità adesso la andiamo subito a trovare all'interno vi danno anche in dotazione quindi dicevo vi danno in dotazione una possette dove appunto mettere la piastra e portarla via con voi mi danno in dotazione anche questo che credo sia il tappetino per poggiare al di sopra la piastra quando è calda le due cose si possono combinare quindi vado ad attaccare il tutto questo è il risultato super carina e nulla adesso la proviamo insieme vado a rimuovere i laccetti e ci vediamo perfetto ragazzi a questo punto vado ad accendere la piastra cerco di farvi vedere ok come vedete lampeggio quando finisce di lampeggiare significa che ha raggiunto la temperatura allora la temperatura minima è 250 ed arriva a 460 gradi fahrenheit e direi di incostarla così già scotta tantissimo magari anche meno per non restare pelata ok nel frattempo vado a suddividere i miei capelli quindi faccio questa operazione qui vado a prendere una sezione si rialzo su e li fisso ok ha già raggiunto la temperatura come vedete non lampeggia più quindi posso andare a utilizzarla allora vediamo un po direi che va benissimo faccio anche quest'altro va bene ragazzi nel frattempo che io faccio quest'operazione qui volevo un po chiedervi che tipo di video vorreste vedere nel canale perché praticamente sono totalmente a corto di idea quindi vorrei registrare qualche video magari makeup però non so magari quale brand preferite vedere fatemi sapere se c'è qualche produttino che vorreste vedere all'azione io lo acquisto e ve lo mostro volevo vedere un po la collezione natalizia di chico però sul sito non è ancora disponibile quindi aspetterò ok sono già alla seconda sezione come vedete questi sono i capelli schiariti vediamo un po faccio un po di casino al solito mi piace mi piace mi piace vado a fare un'altra sezione quindi faccio questo ok ragazzi io nel frattempo sto facendo le ciocche dietro può sembrare complicato in realtà basta un po di pratica ed è molto semplice ok anche da questa parte io le ho legato un po male anche da questa parte Grazie a tutti. 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 Ok ragazzi, quindi aspetto giusto qualche secondino, il tempo di far raffreddare per bene tutte le onde e poi le vado ad aprire con le mani. Lo vado in modo da un effetto molto più naturale. Bene ragazzi, quindi questo è il risultato finale. Io spero tanto vi piacere, io spero tanto vi piace e spero soprattutto possa esservi utile. Come avete visto è molto semplice. e quindi, come se è un'altra, mi piace, è un'altra, mi piace, è un'altra, mi piace, anche con questo colore, anche con questo colore, anzi a maggior ragione, perché avendo queste schiariture, i capelli non lo so, danno tutto un altro effetto. Fatemi sapere voi qui giù, vi lascio ovviamente, vi lascio ovviamente in descrizione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, lasciatemi un bel pollice in su. Vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!